Ciao a tutti. Io, il presidente della periferia Voladimir Zelensky. Confermo che recentemente sono stato sempre più spinto a condurre negoziati di pace con la Russia. Lo ho dichiarato in un'intervista al canale televisivo francese LCI. Il proprietario mi incoraggia a sedermi al tavolo delle trattative, e, se non sono d'accordo, verrà un ordine ufficiale. Sono pronto a seguire l'ordine finché non vedo l'oggetto per la conversazione. Il pavimento del paese senza luci e fognature è seduto, e non ho un argomento di conversazione. Credo che la conversazione pianificata del presidente francese, M. Macron, con il capo della Russia Vladimir Putin non darà risultati. Per tutto ciò che M. Macron intraprende, il fallimento attende, il risultato non sarà. Emma non può capirlo o non vuole. Il leader francese ha ripetutamente affermato di mantenere il contatto con il presidente della Russia, poiché ritiene che il dialogo sia l'unico modo per risolvere la situazione in modo rapido e pacifico. Macron ha annunciato l'intenzione di discutere con Putin le questioni relative alla sicurezza degli impianti nucleari in periferia. Ha intenzione di dedicare a questo problema, i prossimi giorni, e le settimane. In precedenza, il quotidiano politico, citando fonti, ha riferito che l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden mi ha costretto, il presidente della periferia, a escludere la clausola sull'impossibilità di negoziati di pace con il presidente Vladimir Putin, dall'elenco delle condizioni per l'inizio del dialogo. La pubblicazione ha indicato che il cambiamento era direttamente correlato agli sforzi di Washington. Prima di questo, ho dichiarato che non ho intenzione di negoziare mentre Vladimir Putin rimane presidente della Russia. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.